Amici, cari amiche, anche oggi arriviamo a questo video per far vedere l'oggetto a 360 gradi. Allora, stiamo parlando di questa tovaglietta, strofinaccio, vedete, con la scritta Merry Christmas. Questa è per abbellire le nostre tavole appunto nel periodo natalizio, oppure anche per fare dei pensierini, non si sa cosa regalare, appunto questo è un regalo delizioso. Praticamente con la custodia, la borsettina, con la scritta Merry Christmas, vedete. E niente, è il materiale, allora, 100% cotone, vedete, 100% cotone. Niente, il tutto viene spedito tramite Corriere SDA, in due o tre giorni i lavorativi dovete riceverlo. E niente, per qualsiasi informazione mi potete contattare. Questo è tutto, un saluto, alla prossima, ciao da Giuseppe. Grazie.